La Regione Toscana ha avviato uno studio di sieroprevalenza sul Covid-19 e per meglio raccogliere i dati ha messo a punto anche una app denominata Casa in Salute. La app non è utilizzabile da tutta la popolazione, ma dalle strutture che svolgono gli esami sierologici e dalle categorie di cittadini più esposte al virus, elencate in un'apposita ordinanza regionale, come operatori sanitari, operatori delle residenze sanitarie assistite, membri del volontariato, farmacisti, forze dell'ordine e così via. Cosa fa l'app? L'app consente di raccogliere quelle informazioni che normalmente quando si fa un prelievo di sangue non sono disponibili. In questo caso per lo studio è stato deciso di fare un semplice questionario anamnestico di contatto e soprattutto anche il ruolo, perché per capire la sieroprevalenza sul territorio è necessario sapere se una persona ha, ad esempio, guidato un'ambulanza del 118 per trasferire dei pazienti oppure è un nostro operatore sanitario che in un ospedale ha lavorato in un'area Covid. L'app può raccogliere dati relativi a una sola persona oppure attraverso la modalità ambulatorio raccogliere informazioni relative a più soggetti. Nell'app è presente anche la geolocalizzazione opzionale e che rileva solo il luogo dove il test è stato effettuato, ad esempio. Se gli operatori a cui deve essere effettuato il test serologico si trovano, ad esempio, dentro un'RSA, è importante per noi che l'infermiere che esegue il prelievo possa arruolare tutti i soggetti che quindi saranno semplicemente individuati con la posizione dove è stato effettuato il test. Tutti i dati vengono raccolti in forma anonima e trattati nel piano rispetto della privacy, secondo l'informativa disponibile in apertura della app.